Per i nostri 40 anni Sky Wi-Fi presenta Radio Italia Live, il concerto Alessandra Amoroso, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Francesco Gabbani, Gali, Irama, Marrakesh, Marco Mengoni, Gianni Morandi, Pinguini Tattici Nucleari, Rcomi, San Giovanni, Ultimo Presentano Luca e Paolo Radio Italia Live, il concerto Milano, Piazza Duomo, sabato 21 maggio, in diretta su Radio Italia, Sky, Now e TV8 Radio Italia Live, il concerto suona con animazione